ciao ben trovato aspetta bene ma perché siete grandi amici non fosse un grande amico di di samuel ci conosciamo ciao che avete fatto giustamente napoletano staccato bellissimo graditissimo maggio grande pino daniele giustamente cosa c'è di napoletano in te beh io tutto sono sono di ercolano sono napoletano dammi un tratto che ti lega a quella terra il fuoco del vesuvio io sono di ercolano il fuoco del vesuvio città più prossima al vesuvio insomma non hai detto il mare non hai detto il mare non hai detto il babà ma hai detto il fuoco del vesuvio ma sei uno tormentato sei uno diciamo che che brucia le cose che ti stanno intorno beh non brucio le cose intorno piuttosto brucio dentro insomma sono un tormentato allora tv buvi tutto per mio figlio che andrà in onda stasera sì peraltro prende spunto da vari fatti di cronaca legati al i tanti eroi borghesi che seppero ribellarsi no al pizzo e quindi immagino che per te sia stato particolarmente emozionante anche raccontarlo sì una bella una bella avventura una bellissima responsabilità che racconta la resistenza all'ostinazione la volontà di un uomo di ribellarsi al fenomeno non inedito del racket in un territorio di una località della campania per cui raccontiamo anche un tessuto sociale abbastanza complesso e complicato siamo alla metà anni 90 fino agli inizi degli anni 2000 e raffaella campora decide di ribellarsi fino a riunire i suoi compagni in un gruppo fino a creare un vero e vero e proprio sindacato attraverso una serie di denunce ci mette la faccia la firma mettendosi in gioco per sé stessa non solo per sé stessa per i suoi compagni per la comunità ma soprattutto per per la famiglia per essere da grande esempio suo figlio non a caso il depositario del grande messaggio che noi vogliamo lanciare suo figlio adolescente peppino di 14 anni e in qualche modo la il film stesso si rivolge ai giovani vediamo una clip grazie tu tieni questa di famiglia però pare che ti sei scordato pare che noi non esistiamo più ma fammi capire ti faccio mai magari qualcosa tu ci manchi tu ma per te c'è solo il sindacato e basta senti ho dato la mia parola ah sì è un uomo mantiene sempre la sua parola è vero dai ridillo sì lo dico un'altra volta mi sono preso in impegno allora e qual è questo impegno l'impegno di fare l'eroe ma qual è l'eroe ma qual è l'eroe anna se la metti così lascia stare come la già mettere tu non vuoi capire no tu non capisci perché io sono cambiato ho capito un sacco di cose tu si cagnata vuoi sapere quello che è successo te lo dico io quello che è successo tu ti sei fatto questo sindacato ti sei sentito qualcuno e ti sei imbazzuto perché a te ti piace essere il capo di qualche cosa che è successo invece non è così perché ho fatto tutto per i figli sì per i nostri figli sì sì dimmi come crescono i ragazzi in un mondo di merda come questo raffaele tu ti sei impazzito con tutto si denuncia e con quel giornalista che ti ha montato a capo no a me non mi ha montato a capo nessuno non ti mandato a capo no tu fai tutto per i figli ma come cambano i figli tuoi i figli nostri senza un padre che fanno ah rispondi non lo sai no beh che bella scena intensa ti sei mai chiesto cosa avresti fatto se fossi stato al posto del tuo personaggio guarda è una è una bella domanda nel senso me l'hanno già posta e ho avuto difficoltà anche a rispondere perché poi se non ti trovi in certe situazioni non le vivi personalmente è abbastanza difficile io ho incontrato e ho avuto modo di confrontarmi con delle persone che hanno vissuto realmente questo dramma nella città in cui sono nato sono nato e cresciuto e mi hanno raccontato di grandissime ansie di grandissime paure mi raccontavano che tremavano al rumore di un motorino che passava davanti al negozio però hanno avuto il coraggio di farlo di ribellarsi e questo di denunciare soprattutto perché poi quella è la vera arma ed è quello che noi raccontiamo perché poi se non fai quello anche la giustizia di per sé ha le mani legate di fronte a certi fenomeni tra l'altro ricordiamo tutti e mi fa piacere ricordarlo libero grassi che pagò con la vita proprio lui lui sicuramente però ce ne sono tantissimi altri che poi diciamo sono rimasti un po voglio dire giornalisticamente meno noti ma è vera questa cosa che ho letto qualche parte che tu da bambino praticamente spararono ad un panettiere dal quale tua mamma si serviva proprio perché si era opposto al sì sì io ero poco più che un bambino e mi ricordo di questo di questo episodio come te lo raccontarono in realtà io mi ci trovai a passare proprio davanti davanti alla bottega c'era c'era solo tantissima gente c'erano le forze dell'ordine come te lo racconto nel modo in cui lo si dice neanche tanto nel modo in cui lo si dice un bambino mi dissero che avevano ammazzato questa questa persona e questa cosa come 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 ti lasciò come te la ma chiaramente a quell'età non è che la vivi la vivi sicuramente con un moto di paura no paura per come poi gli adulti possano in qualche modo risolvere certe certe situazioni ti dà ti dà un grandissimo senso di stabilità adesso quello che emotivamente mi si mosse dentro all'epoca insomma l'ho abbastanza in qualche modo rimosso però è un episodio che mi ha colpito tantissimo ne parlavo insomma appunto ieri con una con una persona che ha avuto il coraggio di appunto di denunciare cioè tu parlavi con una persona ieri sì sì sentito delle persone che hanno avuto il coraggio di farlo e che mi dicono che sono molto molto contenti del fatto che venga rappresentato insomma scenicamente il coraggio di qualcuno che ha il coraggio che è riuscito a superare poi la paura di denunciare a tutti gli effetti e creando poi un modello in realtà è certo no poi insomma diciamo sono modelli positivi e la cosa importante in questi casi lo ripetiamo spesso quando ce ne occupiamo è che non bisogna lasciare solo le persone nessuno deve essere lasciato solo nella vita in generale a maggior ragione quando deve compiere un gesto appunto di ribellione a un racket è quello che appunto mi diceva questa persona ieri parlandone diceva noi anche in passato alcuni l'hanno fatto hanno trovato questo coraggio e non oso neanche dire non ho le competenze per dire che siano stati lasciati soli a tutti gli effetti però quando accadde proprio a questa persona questo episodio nel 2009 gli fu messa una bomba davanti al negozio probabilmente la magistratura le forze dell'ordine e anche l'allora sindaco di Ercolano appunto riuscirono a sostenere e a dar coraggio e ad appoggiare questa scelta che poi ha tirato dietro altri commercianti può fare anche noi giornalisti parlandone no e quindi anche questo passione utile senti l'abbiamo vista recitare accanto a te Antonia Truppo ti manda questo messaggio ciao Giuseppe ciao a tutti e mi veniva in mente perché volevo mandarti un saluto a proposito di tutto per mio figlio mi veniva in mente questa scena che noi avevamo a lungo studiato e preparato e nella quale ci eravamo calati completamente durante le riprese del film poi la vedrete una scena molto toccante molto drammatica e ci siamo avvenghiati l'uno all'altra e in effetti quando è finito questo bellissimo piano sequenza siamo sprofondati diciamo in questo stato e ci siamo tenuti stretti abbracciati perché eravamo assolutamente calati in questa emotività molto forte un ricordo molto bello che saluto un bacio bello bello il mestiere dell'attore che comunica tante emozioni senti papà lavorava sul peschericcio permettimi solo se posso di ricambiare al saluto e di ringraziarla soprattutto per la generosità con la quale si è scenicamente spesa ma io non avevo alcun dubbio non avevo dubbi sulla sua potenza di attrice lì si resta la nostra ospite quando per il film di martone su cui rido io è una straordinaria interprete quindi di conseguenza è una grandissima compagna di lavoro è certo allora diciamo papà lavorava sui pescherecci e qua c'è una foto che ti ritrae bambino credo che non eri qui su un peschereccio non vedo nulla con mia mamma la tua mamma che sbucciava i gamberi io sono quello con la barba bambino già avevo un pigiamino di topolino e credo fosse una battuta di pesca allora gli altri signori non ho memoria di chi fossero credo degli amici di famiglia che ci accompagnavano insomma mia madre stava sbucciando un gambero anche se dalla foto non credo si si vinca però senti eppure tu sei capitano di lungo corso no ti sei diplomato si sa che cosa cosa c'è per la marina purtroppo sì cosa c'è dello spirito del mare in te ma la voglia di esplorare la voglia di esplorare sicuramente di conoscere di 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 stare sempre in movimento di 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 non lasciarmi andare sempre alla calma piatta ma sempre con la con l'asticella alzata di chissà che a un certo punto può anche arrivare una una bufera insomma a sì sempre una sorta di stato di di allerta a sì è perché ma perché non ti fidi o perché sei sei timoroso perché dice no 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 perché sono no perché sono timoroso però se se mi domandi cosa io posso aver imparato dal mare un po diciamo anche rispettiamo associarla a una metafora della vita un po l'instabilità delle cose vedi anche il momento storico che stiamo vivendo decisamente particolare rispetto a tante stabilità io che amo il mare ma assolutamente la profana è una barca vera l'estate non sai mai cosa non sai mai cosa ti regala io ad esempio ti direi la libertà no tu invece mi dici l'imprevisto e l'imprevisto perché la libertà te la dà quando esci la domenica con gli amici al mare quel senso di libertà ma sul serio ci col mare calmo per cui va a fare la gita domenicale ti diverti ma quando sei costretto come ha fatto mio padre e tantissimi operatori del settore oggi che vivono una situazione drammatica per il caro gasolio vabbè non entriamo un argomento ne parliamo tutti i giorni era solo a sostegno loro e quando sei costretto insomma all'imprevisto a lavorarci che ci lavori sei costretto ad andare in mare anche quando non è proprio calmo anche quando le condizioni non sono perfette c'è tutta la letteratura no sul mare a parte verga c'è la linea d'ombra di conrad no che c'è quel momento in cui bisogna superare la bonaccia bisogna continuare a dispiegare le vele allora io devo mandare la pubblicità ma dopo la pubblicità scoprire scoprirete chi hanno in comune giuseppe zanio e samuel peronne che ride tutta quanta felicione vabbè per leonardo ma in comune vabbè non lo vedevo perché lui è sempre in giro l'ho detto apposta perché così subito in gelosiscia eccolo qua lui ha detto abbiamo una donna in comune che s'allarga sempre samuel pubblicità pubblicità s'allarga è così è ragazzo ragazzo siamo qui con giuseppe zeno e scopriremo tra breve la liaison amicale che intercorre tra questi due bei ragazzi però visto che stiamo sempre in mood ballando cioè ballando anche la liaison volevo dirvi che durante la pubblicità mi ha scritto selvaggio lucarelli a proposito di quello che si è detto prima nel senso che sarà di vai l'aveva detto ha fatto riferimento alle battutacce che ha fatto cassini su lorenzo biaggiarelli selvaggia precisa che non sia insomma non c'è nessuna vendetta tra virgolette per quello che ha detto nella clip che invece lei non aveva nemmeno visto ma anzi aveva già anticipato all'autore di milly che avrebbe detto della telefonata prima che iniziasse il programma per cui i due episodi sono diciamo così paralleli ma non si congiungono lei non è stata la telefonata una diciamo così la rivelazione della telefonata non è stata in replica alle parole di cassini su l'altro concorrente e peraltro specifica che i due cioè cassini e lucarelli non sono amici si sono conosciuti 17 anni fa in un programma non si sono mai più visti infatti ti ricordo quando tu hai detto l'ha detto lui no l'ha detto lui ha detto lui siamo amici ma lei ha precisato l'avevo anche letto da qualche parte che non sono più visti sentiti e non lo sono evidentemente non sono così perlomeno così e ci comunica non abbiamo motivo di dubitane quando tua moglie ha fatto ballando caro giuseppe come l'hai vissuta nel 2016 se io come la doveva bene lo curioso lei si divertiva ballava aveva un ottimo maestro guarda che lui non è geloso è no 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 anzi può sembrare gelosi invece non è come me lui è tranquillissimo a una donna che ha di una bellezza di tante volte a cena poi amare siamo nel ragazzo straordinario come puoi essere geloso è ma scherzo ma stiamo giocando e lei è gelosa di te margaret non è gelosa margaret è siciliana il luogo comune del siciliano geloso tu domandi io rispondo poi no fatto etnico dici te sì è un fatto culturale e quindi che fa di geloso non fa niente semplicemente lo è siciliana e basta non ho altro da aggiungere mi avvalgo della facoltà rispondere ma ti fa piacere però perché beh ma comunque anche la gelosia quella sana è una dimostrazione di amore insomma di attaccamento allora facciamo vedere a tutte le due ammiratrici una tra le due prime fiction incantesimo parliamo del 2002 e il nostro lovable adorabile il paradiso delle signore vediamo ma cosa è successo come è fatto a trovarti per strada di notte senza un posto dove andare con tuo fratello malato non lo so è successo tutto così in fretta che non ho avuto modo di ragionare so solo che vogliono portarmi via francesco e piuttosto che permetterlo scappo tutta la vita perché i tuoi non l'avevano adottato francesco perché dovresti scappare a quanto pare c'è un errore burocratico un ritardo nella consegna dei documenti ma francesco è il mio fratello e ha bisogno di me e cosa hai pensato di fare andarmene il più lontano possibile glielo dovete per tutte le sofferenze che gli state dando a lui la sua famiglia facciamo così suo zio mi chiede scusa pubblicamente ammette la sua colpa io ritiro la denuncia lo sa che mi ha minacciato diverse volte è venuto qui al mio negozio ha fatto delle scenate assurdi davanti ai clienti lo convinco a chiedermi scusa e io vedo la mia parola che ritiro la denuncia altrimenti può restare impalata lì quanto vuole va bene va bene sei cambiato professionalmente il sentimento ma emotivamente dalle prime volte che hai iniziato a recitare oggi? beh ma chiaramente inevitabilmente si cambia non sono più quella persona o nel frattempo c'è stato in mezzo tante esperienze di vita tante esperienze professionali non so se è meglio ma sicuramente come essere padre di due bimbe femmine una bella responsabilità una bellissima emozione come qualsiasi padre di qualcosa tu perché poi se domani a me mettono sempre lui è padre da poco cerco la sponda cerco l'appoggio hai un orrore dell'intervista devo dire che hai la grazia di farmi sentire anche a mio agio perché è un grande timore però Samuel com'è essere padre? è bellissimo ma io sto contento perché lo vedo con una luce negli occhi che non lo vedevo non avevo mai visto così è una bellissima luce negli occhi non so se è l'insieme ma c'è una cosa di cui ti vanti Giuseppe visto che sei così understatement così insomma molto giustamente anche una qualità di intelligenza essere umili mi vanto forse non so se è un vanto ma la mia caratteristica è sicuramente la capacità di perseverare nelle cose l'ostinazione nel cercare di farle al meglio giusto giusto questo anche papà so che ti era una persona beh sì poi alla fine i nostri esempi sono loro i genitori allora vediamo ecco qui qua c'è una foto bellissima di tua moglie con le bimbe ovviamente messe con i cuori per non violare la loro privacy come è giusto che sia c'è anche una foto del matrimonio da qualche parte e c'è anche oddio che bello il matrimonio loro ci sei stato? è certo condividevamo una donna scusa in quel momento Serena io ti racconto solo un aneddoto in episodio tu considera che arrivi lì con gli ospiti e quando sei il festeggiato insomma fai tutto tranne che mangiare non mangi noi avevamo qualcuno che passava con i bicchieri e mia moglie non facevamo altro che bere insomma perché poi è stomaco vuoto un giorno già seduti a mangiare a un certo punto bisogna ballare bisogna dare io ho semplicemente accompagnato mia moglie e loro hanno riproposto poi una coreografia credo che avessero fatto ballando no? cioè hai ballato tu con il suo monte il giorno del suo matrimonio ma lui ha fatto tutto cioè lui praticamente dal momento in cui ci siamo seduti a tavola non è mai stato seduto ha fatto animazione per tutta la serata non mi vede così eh mi dai un microfono lui ha cantato mi dai un microfono e mi dai un mezzo è stato pazzesco ma quindi potresti un domani fare anche lo showman no non è nelle mie aspirazioni no semplicemente ero circondato da amici da amici dagli affetti più cari torna il tema della rinaccia era il giorno più bello della mia vita il giorno più bello della tua vita? il matrimonio insomma no è una rinascita inizia una nuova non mi sono mai sposata allora diciamo uno dei giorni più belli no no ma io ci credo allora è il momento di vederli Margaret e Samuel vai ballando 2016 2016 è il momento di vederli è il momento di vederli lo sguardo innamorato di Giuseppe allora questo potrebbe diventare un meme guarda come Giuseppe Zeno guarda la moglie ballare no che poi era anche molto brava sì cioè non perché insomma però aveva tante certo con tutte le difficoltà il fatto che non fosse una ballerina esperta però si è messa in gioco mi ricordo all'epoca la grande e ci teneva tantissimo che cosa ti ha concluso? poi la trattavano pure male ogni tanto come la trattavano male? però va bene erano volte forse la bacchettavano per stimolarla ancora di più e quando lei tornava a casa tu che le dicevi? quando lei tornava a casa no io non le dicevo niente condividevo cercavo di condividere con lei solo le cose belle insomma che lei che lei viveva all'interno assolutamente no ballava bene insomma era bravissima per non essere una professionista del ballo insomma devo dire che lui la stimolava molto maschio complice meno male assolutamente sì non ho mai visto da parte sua una situazione di creare difficoltà o disagio all'interno della coppia show lui anzi incentivai diceva Margaret mettiti in discussione ascolta fai cioè era molto incentivante e aveva veramente infatti uscivamo e mi divertivo un casino perché mi diceva bastonala devi trasformare devi tirare fuori carattere a cui ti sarà creato questo asse maschile va bene Margaret ti ama quindi può fare qualcosa sì ma non era una cosa